Mi aggancio a un vostro film per parlare di un altro argomento. Allora, sempre Febbre da Cavallo. Dove è stato girato? L'Ippodroma era Tordivalle? Certo, ma io ne ho fatti due. Ho scritto il primo di papà, l'ho scritto proprio io, perché ero un giocatore di cavalli, è stato uno dei miei primi film, e poi l'abbiamo rifatto con una certa rabbia dei fedelissimi, ma più fedele di me che l'avevo scritto, mi sono sentito in doverità, e penso che oltretutto il secondo, che certamente non ha quella freschezza di novità che poteva avere il primo, dal punto di vista della struttura, è altrettanto valido, la mandragata è un film fortissimo, sì l'abbiamo girato a Tordivalle. Te lo chiedo, Tordivalle, insomma, quando l'avate girato era una cosa, adesso è un'altra direi. Come ti dispiace un po' vedere, penso di sì, insomma, vedere abbandonato così quell'Ippodromo? Mi dispiace vedere l'Ippica generale boccheggiare, insomma, mi sembra che è un altro capitolo cupo di come noi sappiamo amministrare male spesso alcune cose, non mi sembra che in Inghilterra o in Francia siano arrivati a questo punto, nel senso che hanno salvaguardato qualcosa che fa, è un'identità nazionale, c'erano tantissimi ipodromi in Italia, l'Ippica è stata qualcosa, non solo il Trotto, anche il Deloppo soprattutto, una cosa molto importante, sì, mi fa malissimo al cuore, mi fa malissimo al cuore, perché tutte le volte che si chiude qualcosa o che qualcosa va in decadenza, che appartiene alla tua vita, ti accorgi che spesso il mondo non è detto che il progresso lo migliori. Diciamo che il problema non è soltanto l'Ippodromo di Tordivalle, è poco Roma in generale, tu che sei romano, come la stai vedendo questa città ultimamente? Ma con i capelli bianchi che ho, per cui con un certo distacco e con una certa apparente disinvoltura, nel senso che mi sono anche stufato di sentire queste lamentere continue su Roma, io non ho votato per la signora Raggi, però mi sono stufato di sentire dire la Raggi, il sindaco qua, basta, cerchiamo di capire che poi le responsabilità di una grande metropoli sono anche nostre, nel senso che poi chi è che parcheggia in terza fila? Sono i romani, chi è che butta per terra le cose? Sono i romani, chi è che non pulisce i negozi davanti al proprio negozio? Sono i romani, chi è che si picchia lo stadio? Sono i romani, chi è che spesso infastidisce le straniere? Sono i romani, allora noi certamente dobbiamo avere una città che ci garantisce dei servizi di base forti e efficienti, ma dobbiamo contribuire, non possiamo pensare che abbiamo soltanto dei diritti e non abbiamo dei doveri. Torniamo a Tordivalle, dovrebbe nascere lì, dovrebbe nascere lì il nuovo stadio della Roma? Lo vedremo mai questo stadio della Roma? Prima domanda, perché insomma sai è diventata quasi una telenovela, come era preventivabile forse. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Benissimo. No perché tutto quello che posso dire sono solo stupidaggini. Però sarebbe bello vedere nascere lì, insomma dove avete girato. Sì, ma forse si poteva nascere pure da un'altra parte. Hanno scelto un luogo pieno di criticità e di fatti ne stiamo pagando le conseguenze. Assolutamente. Invece parliamo un po' della Roma, soprattutto della società a Roma. Mi piacerebbe sapere il tuo punto di vista sulla società. Soprattutto su questa policy, su questa linea che sta seguendo appunto la società americana, di investire sui giovani talenti e poi rivenderli. Secondo alcuni tifosi la Roma è diventata un po' tipo l'Udinese o il Palermo. Secondo altri è una strategia giusta e corretta. Secondo tu da che parte stai? Ma sai, la strategia giusta e corretta... Ti ha portato fino alla semifinali di Champions League l'anno scorso, ricordiamolo. Sì, ha portato alla finale di Champions League. Però sai, la Roma, io sono un vecchissimo tifoso. Ho dei ricordi terrificanti di cessioni di grandi campioni che avevamo e che sono andati via in cambio di brocchi. Ho dei ricordi di campagne acquisti totalmente sballate, con giocatori che arrivavano strombazzati dal Brasile, delle pippe clamorose. Ho la sensazione che soprattutto viola, abbia fatto una politica proprio societaria molto azzeccata nei confronti della Roma in quel periodo e poi Sensi naturalmente l'ha fatta in un altro modo, nel senso che Tare è il suo amore che ci ha buttato dentro tutto. Però quello che sta accadendo negli ultimi anni non mi piace molto, non mi piace per niente. Nel senso che, dico una banalità, noi avremmo veramente una delle squadre più forti del mondo, con l'eccezione fatte negli ultimi tre anni. Forse è la squadra più forte del mondo. Allora, io ho poco ancora da vivere come tifoso, nel senso che ormai ho una certa età. Mi secca di vedere sfumare questi secondo posto, terzo posto, perché abbiamo venduto quello e quell'altro e quell'altro ancora. Io credo che un Presidente deve fare dei calcoli, deve fare delle scelte, ma deve anche pensare che ci sono dei tifosi che sono l'anima, perché l'anima di una squadra è il tifo. La Roma siamo noi, c'era un periodo dove c'è ancora. La Roma siamo noi, ma la Roma siamo veramente noi. Allora noi contiamo, tu non puoi prenderci in giro con dei cambiamenti ripetenti. Ma perché vendere Strotman? Poi dopo Strotman starà giocando male, sbagliato, però è una cosa fatta di nascosto all'ultimo momento in una squadra che sicuramente ha preso dei giovani al centrocampo forti, però di avere, siccome corriamo su vari scacchieri, la Coppa Italia, il campionato, la Coppa dei Campioni, un uomo di esperienza come questo altro poteva benissimo rimanere. Questi giovani che sono arrivati, sì, poi dopo rimarranno l'unico, oppure è soltanto un modo per essere in vetrina, soprattutto la polemica su Under, che fine farà Under, non lo so, anche lui per dire. Poi siamo stati sfortunati, abbiamo preso uno molto giovane e si è fatto subito male. C'è probabilmente un progetto, ma non mi sembra così limpido come vorrebbero farlo credere. C'è qualcosa di un po' improvvisato, di un po' casuale, di anche un po' irritante. Ultime due domande velocissime. La prima, qual è il giocatore della Roma che hai visto andare via e che ti è dispiaciuto di più? Che ti è dispiaciuto di più vederlo andare via? È andato via perché ha smesso, è Totti. Questa la sapevo che mi rispondi così, infatti ho la seconda. No, tornando indietro, io mi ricordo dei giocatori, per esempio quando se l'andò Ancellotti, quando se l'andò Capello, quando se l'andò Schnellinger, ci sono stati in passato dei giocatori che hanno lasciato un… e vederli con un'altra maglia. Ma quello che mi dà molto fastidio è quando questi giocatori vengono venduti a degli avversari sportivi, non degli avversari da uccidere. Ma quando vedo Pjanic e Benatia alla Juventus, penso che sia un errore strategico, è gravissimo. Meno di Salah e Alisson a Liverpool, ad esempio. Ma sì, Salah è stato un errore clamoroso perché per esempio anche vedere Nainggolan all'Inter, quest'anno lottiamo anche noi con loro per la Coppa dei Campioni, mi dà molto fastidio. È stato un bel regalo, dici? È stato un errore, è stato un errore. Allora, un'ultima domanda su Totti appunto. Sai che si parla, si mormora, ci possa essere una serie TV basata sulla sua vita. Questa serie TV è composta tra i vari episodi, vorrebbero dare ogni episodio ad un regista. Qualora fai conto, dovessero chiamare te, per dirigere un episodio di questa potenziale serie? Quale ti piacerebbe dirigere? Quale momento della sua carriera ti piacerebbe dirigere? Ma non mi piacerebbe dirigerlo, innanzitutto, perché non credo che sarei in grado di trasmettere l'emozione legata a fatti misteriosissimi che Totti è riuscito a suscitare dentro di me nel corso della sua carriera. Per cui farei qualcosa di non all'altezza e amandolo talmente tanto non lo farei. Grazie mille di essere stato a nostra hostia, è stato un piacere. Grazie a voi. Grazie a voi.